E per le nostre interviste, perché golf? Perché no? Claudio Manachino detto mana, il direttore sportivo di un campo da golf di Casano Monferrato Monferrato Golf Club Spurca, dal 2000, quindi quest'anno sono 19 E sei sempre peggio, sarebbe professionista Ma con che livello ti giochi? Un bel 10 di handicap adesso E ho iniziato a giocare perché dove lavora mio papà hanno costruito un campo da golf Golf col cavalià Prima non lo conoscevo neanche come sport Poi ho iniziato a giocare, e beh, sono 19 anni che ci siamo dentro Quindi direi che è una figata Un colpo più bello che ho fatto, me lo ricordo, era il giri per diventare professionista Quasi only one alla buca 3 Ferretto 7, dato, con sbordatura La pazienza La manina E Mai mollare dai Boh, adesso tutto Cioè non ce la farei a stare senza Grazie mille e ci sta Ci sta Ma tagli poi Certo, sto già registrando Ok Il cotemico è bruttissimo da solo semente No, 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 devi essere da solo Ma no, io e beh, io e Manaco Ma l'intervista sua cosa ci fai? Ma che intervista è? E' da tagliare tutto Tutto Tagliare tutto